La San Giovannese si sta preparando ai play-off, anche se ancora c'è tempo perché arriveranno fra circa un mese. Inizio maggio infatti la data prevista, prima la semifinale castelnovese-sestese, però comunque la San Giovannese si sta allenando ancora. Sarà un mese di stop, Presidente. Farà bene o male intanto alla testa dei giocatori? No, io mi auguro che faccia bene. Ovviamente la squadra è arrivata qua in condizioni psico-fisiche ottime, abbiamo fatto questa grande rincorsa che ci ha consentito di sognare fino alla penultima giornata la gangio alla vetta, quindi sicuramente da un punto di vista mentale la squadra sta bene. Fisicamente abbiamo uno staff preparato perché questo avvenga, quindi sono molto fiducioso. Da qui in avanti le settimane come si svolgeranno? Gli allenamenti come saranno? Saranno intensi come durante il campionato oppure no? Sì, ci alleniamo tutti i giorni, faremo due amichevoli, una al 24 contro lo Scandicci e l'altra che vi faremo sapere a breve, abbiamo delle trattative. Per quello che riguarda l'allenamento faremo sempre il pomeriggio come sempre e cercheremo di arrivare al massimo della nostra forma psicofisica per questo play-off. Play-off che potrebbero essere appunto con la Castellovese o con la Sestese, poi ci sarebbero gli interregionali e quindi poi le due partite eventuali. Presidente, l'anno scorso andò male, quest'anno cosa c'è di differente, cosa deve cambiare? Sai, il play-off è sempre una lotteria, sono partite secche anche se poi le finali nazionali sono andate di torno. Sicuramente l'anno scorso uscimo contro un'ottima squadra che è il Terracina, probabilmente anche con qualche errore arbitraria, se ti ricordi, soprattutto in casa. Quindi quest'anno speriamo di avere più fortuna a punto di vista degli arbitri e cercare anche di avere un po' più di agonismo, un po' più di volontà nel raggiungere l'obiettivo. Però sono convinto che questa squadra ha i valori umani, i tecnici e psicologici per cercare di centrare il massimo obiettivo. La squadra sta lavorando sulla finalizzazione perché è mancato un po' questo nelle ultime due o tre partite. Sì, abbiamo fatto questo tipo di lavoro, non abbiamo segnato tanto, però sicuramente con questo tipo di lavoro, con questo tipo di approccio, sicuramente anche da un punto di vista offensivo saremo più pericolosi.